E siamo alla capitale di questa repubblica, ci troviamo alla Valletta, che praticamente è questa è in Bramanattan ma non lo è, no è molto più piccola, infatti se non vado errato a 5.000 abitanti ed è la più piccola capitale europea Questa è Republic Street, la via principale della Valletta e questa è la cattedrale di St. John Questo è il palazzo di giustizia Questa statua commemora le vittime del grande assedio di Malta nel 1565 Perché toglierla quando la puoi transennare? E vi ricordiamo che questa trasmissione è offerta da Egoform Se anche tu vuoi dormire su un materasso comodo e far dormire il tuo io in maniera sincera Compra Egoform Egoform per dormire col tuo io